Questa mia predicazione è rivolta espressamente, direttamente a tutti quegli evangelici che hanno creduto in un altro Vangelo. In sostanza questa mia predicazione è rivolta a tutti quegli evangelici che non avendo creduto nell'Evangelo di Dio sono degli increduli. Quindi prestate attenzione a quello che sto per dirvi perché è della massima importanza. Ora voi vi definite evangelici, cristiani evangelici, credenti evangelici e così via. Affermate di essere dei credenti, ma il fatto è che avete creduto in un altro Vangelo. Benché voi vi definiate evangelici, a voi è stato trasmesso un altro Vangelo. Voi naturalmente non vi siete presi la briga di esaminare, di verificare se l'Evangelo che vi era stato annunziato fosse vero e così avete creduto in un altro Vangelo, in uno dei tanti falsi Vangeli che vengono propinati nelle denominazioni evangeliche, nelle associazioni evangeliche, nelle chiese evangeliche. Dunque voi, agli occhi di Dio, che cosa siete? Non avendo creduto nell'Evangelo, siete degli increduli. Ossia, non avendo creduto nell'Evangelo, voi siete sotto il peccato, schiavi del peccato. Lo siete al pari dei musulmani, dei buddhisti, dei satanisti, dei mariani e così via. Cioè, siete dei peccatori sotto il peccato. E dunque, l'ira di Dio è sopra di voi. Siete sulla via della perdizione e ciò che vi aspetta, se doveste morire in questo preciso momento, è l'inferno. L'anima vostra si dipartirebbe dal vostro corpo e ve ne andreste all'inferno, nel fuoco dell'inferno. Perché questa è la fine di tutti coloro che, appunto, non hanno creduto nell'Evangelo. Infatti, Gesù ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Gesù non è che ha detto, chi non avrà creduto in un qualsiasi Evangelo sarà condannato. Quando disse queste parole si riferiva all'Evangelo di Dio che gli Apostoli, che lui aveva ordinato agli Apostoli, di andare per tutto il mondo e predicare ad ogni creatura. Dunque, prestate la massima attenzione, perché quello che vi aspetta, voi evangelici incredoli, è l'inferno. Dunque, voi avete delle colpe. E come se avete delle colpe? Siete pieni di colpe, agli occhi di Dio. Siete al servizio del peccato, lo ripeto. E dunque, il giudizio che vi aspetta è quello, appunto, il giudizio giusto di Dio, che è la condanna. Chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi, voi, vi siete illusi di avere creduto nell'Evangelo. Ciò che, infatti, vi era stato offerto, annunziato come Evangelo, effettivamente non era l'Evangelo. Voi non lo sapevate, però ci siete cascati. Siete caduti vittima di questo inganno satanico. Avete ascoltato la predicazione di uomini che non sono stabiliti da Dio e che non predicano l'Evangelo, ma predicano un altro Evangelo, e quindi siete rimasti ingannati. Sì, siete rimasti ingannati. E l'amore di Cristo mi costringe ad, naturalmente, annunziarvi l'Evangelo, quindi, affinché, o meglio, nella speranza che voi, credendo in esso, poi vi crediate in esso. Allora, qual è l'Evangelo di Dio? L'Evangelo è la buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati scelti innanzi da Dio. Questa è la buona novella, nella quale dovete credere per essere salvati dai vostri peccati. Perché la salvezza è per grazia, mediante la fede, appunto, mediante la fede nell'Evangelo. Credendo nell'Evangelo, dunque, sarete salvati dai vostri peccati, otterrete la remissione dei vostri peccati. Perché è scritto che chiunque crede in Lui, di Lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in Lui, riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Sarete rigenerati, credendo nell'Evangelo. Cioè, nascerete di nuovo. E poi sarete giustificati. Otterrete, dunque, la giustificazione che dà vita, che si ottiene mediante la fede nell'Evangelo. E otterrete anche la vita eterna, che è il dono di Dio in Cristo Gesù. Dunque, considerate quante cose otterrete credendo nell'Evangelo. Cose che, allo stato attuale delle cose, voi non avete. Questa è la ragione per cui voi non siete sicuri della vostra salvezza. Non potete essere sicuri della vostra salvezza avendo accettato un altro Vangelo. È assolutamente impossibile. La certezza della salvezza c'è solamente in coloro che hanno creduto nell'Evangelo. Infatti è chiamato, Paolo lo chiama, l'Apostolo Paolo, l'Evangelo della nostra salvazione, o della vostra salvazione. Comprendete? Quindi, senza l'Evangelo non c'è salvezza. Senza l'Evangelo non c'è rigenerazione. Ecco perché ancora vi ritrovate schiavi del peccato. Eppure vi definite credenti. Ma perché non avete mai creduto nell'Evangelo? Ecco perché avete, diciamo, la vostra coscienza è gravata dalle opere morte. e vi riprende. E naturalmente vi dice sostanzialmente che siete dei peccatori. Per questa ragione. Perché non avendo creduto nell'Evangelo, voi non avete la remissione dei peccati. E così è anche la giustificazione. Ecco perché, assieme a tanti altri, vi definite peccatori e dite siamo tutti peccatori. Ecco perché appunto non vi considerate giusti nel Signore. perché non avendo ottenuto la giustificazione che dà vita, cioè non avendo ottenuto la giustizia di Dio che viene dalla fede, non potete definirvi appunto i giusti dell'Altissimo. Dunque vedete, non avendo creduto nell'Evangelo, voi siete praticamente quello che vi ho detto. Siete dei peccatori, degli uomini senza Cristo, senza Dio, senza speranza nel mondo. Alla stessa stregua di tutti gli altri increduli che naturalmente non si definiscono cristiani, evangelici, ma lo sono. Dunque capite bene quanto importante sia credere nell'Evangelo. Quindi io vi esorto. Sì, lo so, voi andate al culto, magari siete stati anche battezzati, cantate, pregate, ma non siete salvati perché non avete creduto nell'Evangelo, non siete nati di nuovo, non sapete nemmeno cosa significa nascere di nuovo, non sapete cosa sia la nuova nascita, siete ancora morti nei vostri falli, nei vostri peccati, perché non avete creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. Questa è la ragione. Quindi, esaminando voi stessi, vi renderete conto che arriverete a questa conclusione che appunto siete degli incredoli. Non siete nella fede, siete degli incredoli. Quindi cosa dovete fare? Dovete ravvedervi, lasciare i vostri pensieri iniqui, malvagi, vani e credere nell'Evangelo. Allora sì che nascerete di nuovo, allora sì che sarete salvati, allora sì che potrete definirvi giustificati, allora sì che potrete dire ho la vita eterna, sono sicuro che dovessi morire in questo preciso momento andrei ad abitare col Signore del Regno dei Cieli. Solo in quel momento avreste, diciamo, questa capacità di dire queste cose, di affermare, proclamare queste cose. Il fatto che voi non abbiate, diciamo, questo modo di parlare, il fatto che voi non abbiate la certezza della salvezza, è la dimostrazione che voi non avete creduto nell'Evangelo. Ecco perché vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo. Siete in tanti, lo so che siete in tanti, riempite domenica, dopo domenico, durante la settimana, i locali di culto di questa o di quell'altra chiesa. E assieme naturalmente a voi ci sono anche i vostri conduttori che non vi hanno annunziato l'Evangelo perché non sanno cosa sia l'Evangelo. Non lo sanno. C'hanno ognuno, c'hanno un loro Evangelo, quello che gli aggrada di più, quello che si sono inventati, ma non è l'Evangelo di Dio. Quindi ho voluto rivolgermi a voi proprio perché l'amore del Signore mi costringe a parlarvi per la vostra salvezza, perché il mio desiderio è che siate salvati, che non rimaniate sotto il peccato, il mio desiderio è che non rimaniate sulla via della perdizione, il mio desiderio è che voi andiate in cielo, nel regno dei cieli quando morirete, il mio desiderio non voglio vedervi andare all'inferno, io voglio voglio vedere che voi veramente siete salvati, quindi io spero e prego che il Signore veramente tra di voi appunto dia il ravvedimento, la fede ad alcuni per salvarli, perché credetemi questo è la ragione per cui mi sono rivolto direttamente a voi, io sono stato io sono stato per anni un giovane che si definiva evangelico, pregavo, cantavo ai culti e c'era anche chi pensava che io fossi un credente perché mi vedeva cantare e pregare ma io non è e lo dicevo anche agli altri che erano evangelico lo dicevo anche ai cattolici ma io sapevo di non essere un figliuolo di Dio io sapevo di essere un peccatore sapevo di essere sulla via della perdizione non avevo la certezza della salvezza perché non avevo creduto nell'Evangelo però un giorno il Signore si è compiaciuto di darmi il ravvedimento e appunto di farmi credere nell'Evangelo e quindi il Signore appunto mi ha salvato mi ha perdonato mi ha riconciliato con sé mi ha giustificato mi ha dato la vita eterna io lo ringrazierò per sempre quindi il mio desiderio sapendo appunto qual è l'andazzo che c'è nelle chiese nelle chiese evangeliche è proprio quello di vedere voi che vi definite evangelici e che siete degli incredoli eh di vedervi salvati di vedervi giustificati eh di vedervi perdonati di vedervi nati di nuovo perché la stata attuale delle cose siete sotto il peccato siete morti nei vostri falli e nei vostri peccati quindi ravvedetevi fate quello che il Signore ha comandato di fare ravvedetevi e credete all'Evangelo che vi ho annunziato ricordatevi l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del Giudeo prima e poi del Greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede solamente quando crederete nell'Evangelo dichiarerete di essere giusti agli occhi di Dio perché siete stati giustificati allora smetterete di dire siamo tutti peccatori perché allora comprenderete comprenderete che cosa avete ottenuto mediante la fede cioè la giustificazione la giustizia di Dio che si consegue mediante la fede anzi comprenderete che siete diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo che orecchie da udire oda la l'Evangelo